La grande musica torna ad animare le sale della Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo che ospiteranno la sedicesima edizione della stagione concertistica internazionale. Sei i concerti in programma che porteranno in città i migliori giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. Devo dire che quest'anno il festival entra in Casa Bruschi in un momento particolarmente fortunato dopo le sfortune trascorse. La mostra, l'Oriente in casa, l'ospitalità dei due video di Merce e Cunningham e quindi un elemento musicale che richiama la contemporaneità in relazione con la mostra dell'arte americana Palazzo Strozzi e quindi devo dire che il Casa Bruschi si colloca in questo momento come polo nazionale importante per la diffusione della cultura. Si parte il 17 giugno con l'esibizione del clarinettista Kevin Spagnolo. Il vincitore del concorso internazionale di Ginevra che è uno dei concorsi internazionali più prestigiosi al mondo è un ragazzo giovane italiano di 24 anni che ci onora anche perché è diventato tra l'altro il primo clarinetto dell'orchestra internazionale di Svezia. Quindi abbiamo veramente il meglio anche di altri strumenti perché abbiamo Ivan Bessonov che è pianista di 16-17 anni di russo che ha vinto l'Eurovision Contest quindi sono giovani che spesso e volentieri poi nei prossimi anni diventeranno famosissimi e quindi saranno anche molto difficili da portare ad Arezzo.